Una proposta ecologica affascinante la troviamo dove meno ce la si aspetterebbe, sullo stand di uno stilista. L'italiana Italdesign di Giorgetto Giugiaro ha tolto i veli alla Namir, in arabo tigre. Fuori una supercar dalle linee ardite, sotto la pelle tecnologia ibrida, che associa un motore rotativo Wankel di 800 cm3 a quattro motori elettrici. Il motore termico Wankel è qui, collocato dietro a questa paratia, e serve esclusivamente come generatore per ricaricare batterie che sono collocate dietro al sedile di guida. I quattro motori elettrici invece sono qui, sull'asse posteriore. Ciascuno governa un semiasse, due sono qui, gli altri due sono collocati sull'asse anteriore e fanno di fatto di questa vettura una trazione integrale. Grazie per la visione!